Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul canale. Oggi vi faccio vedere gli acquisti che ho fatto su Shane per quanto riguarda la casa. Prima però ricordo a tutti di iscriversi al canale se non siete già iscritti, attivando anche la campanella. Mi raccomando, se volete seguirmi, sono attiva anche su Instagram. Adesso vi lascio al video. Allora, iniziamo con gli acquisti. Allora, ho comprato... aspettate ve lo apro che sennò fa troppo rumore. Ho comprato questo... anzi, abbiamo comprato questo scolapasta qui in silicone. Mi piaceva molto perché è di quelli salvaspazio e devo dire una cosa. Allora, sì, buono mi piace, però credevo che fosse più grande. Cioè, dalle foto sembrava che ci mettevano dentro cose enormi. In realtà non è poi così grande come dalle foto. Cosa, vabbè, molto comune su Shane. Comunque, vabbè, sembra un buon prodotto. Ho comprato poi, ve lo apro anche questo. Questo pela patate, pela verdure, pela frutta. Questo qui mi piaceva perché aveva la faccina sorridente. Il prezzo, se non era, era intorno ai 75 centesimi. E anche questo scolapasta è costato un euro più o meno. Ora, insomma, sono tutti acquisti intorno all'euro. Insomma, è questo qui. Sembra buono, non l'ho ancora utilizzato. Vediamo. Allora, vediamo poi cosa altro ho comprato. Pesco random. Ho comprato, vabbè, questo imbuto qui. Anche questo 75 centesimi, se non erro. Scusate, ora non ricordo bene tutti i prezzi. Comunque, l'imbuso è questo. Me lo aspettavo un pochino più fragile, invece sembra abbastanza resistente. Poi, abbiamo comprato questo misurino qui. Non so se riuscite a vedere bene. Permette di misurare sia i grammi, sia i litri. E ovviamente misura le piccole quantità, come ad esempio un cucchiaino di olio, quindi magari, che ne so, 5 millilitri di olio. Oppure se uno deve aggiungere 3 grammi di sale. Serve appunto per misurare queste piccole quantità. Poi, abbiamo preso questo taglia ragoste e taglia noci. Ovviamente non ci serve per le ragoste, ma per le noci. E niente, questo è ancora chiuso. Quindi, essendo che comunque praticamente quasi tutto utilizzeremo per la casa nostra, non vado ad aprirlo. E niente, sembra comunque abbastanza solido. Poi, abbiamo comprato per la modica cifra di 75 centesimi, questo spelino. Non so come si definisca dalle mie parti, si chiama spelino. Che praticamente serve per levare i pelucchi, oppure anche meglio detto leva pelucchi. Da tipo i maglioni, dai giacchetti, dai vestiti di lana. E ora andiamo a vederlo insieme. E ora andiamo a vederlo insieme. E ora andiamo a vederlo insieme. Poi, continuando con gli acquisti, ha preso Simone questo portacarte qui, pagato anche questo intorno all'euro. Sinceramente, secondo me, non durerà tanto. Cioè, sembra di quel materiale non molto resistente, ecco. Però, magari mi sbaglio. Ovviamente siamo consapevoli che spendendoci per così basse, la qualità dei prodotti non è chissà cosa. Però, comunque, su prodotti, quelli che abbiamo comprato, cioè non sono cose che servano magari un pochino più di qualità, come può essere una pentola, una padella. Ecco, sono tutti oggetti un po' così. Quindi, come per esempio, questa collana che ho comprato, che devo dire, mi piace molto. Ora andiamo a provare. Questa, pagata un euro. Ok, no. Super, super bocciatona. Allora, praticamente la collana è questa, qui. Cioè, io l'ho comprata perché dalla foto, ora se la trovo ve la metto qui o qui, era una di quelle collane che stavano così. E, cioè, così è bellina, molto. Però, cioè, scusate, cioè... Ora, non so se riesco a farmi vedere. Cioè, direi che assolutamente non è una collana così. Ora, posso capire, io posso avere il collo un pochino più fine, quindi mi può stare leggermente più lente. Cioè, ma qui c'entrano due colli. No, vabbè, è super bocciata. Ok, l'ho pagato un euro, però sinceramente ci sono rimasta male perché, boh... Vabbè, volevo una collana in quel modo. Non è così. Poi ho comprato questa fascettina qui. È super, super, super morbida. L'ho comprata perché sono quelle fascettine che si vanno a utilizzare per i trucchi. Cioè, quando ci trucchiamo, quando ci strucchiamo, facciamo la skin care. E quindi, per non avere sempre i capelli sul viso, servono queste fascettine qui. Molto carina. Poi, abbiamo preso questo profumatore d'aria qui, umidificatore e profumatore di aria. E l'abbiamo pagato 3 euro. C'è anche il rispettivo cavettino, eh. E' questo qui. Esteticamente molto carino. Praticamente si apre, qui si mette l'acqua, il profumatore. E niente, poi si attacca alla spina e esce da qui. Non lo so, spero sia buono perché in realtà, cioè, lo so che questi profumatori hanno comunque un costo. C'è anche su Amazon, insomma, sui 25-30 euro si trovano. Quindi, per costare 3 euro, spero sia buono. Se qualcuno l'ha comprato, fatemelo sapere nei commenti. Poi, abbiamo comprato questa teglia per i dolci in silicone. Allora, qui vi vorrei soffermare un secondo. Intanto la poso. Allora, vi vorrei soffermare un secondo. Perché? Perché a me non piacciono le teglie per i dolci, diciamo, del classico materiale, quindi quello duro. Perché, diciamo, di antiaderente questi materiali qui? Perché comunque richiedono inevitabilmente il burro, l'olio. Sì, possiamo metterci la carta forno, però sciupa un po' l'estetica. Insomma, non è la stessa cosa. E io amo le teglie in silicone. Secondo me sono un'ottima soluzione le teglie in silicone perché comunque permettono di avere una cottura dei cibi senza dover andare a mettere olio, burro, per fare una preparazione un pochino più sana. Insomma, la trovo una soluzione molto pratica e comoda e utile e sana. Però, devo dire che mi sono un pochino informata e ovviamente il silicone è un materiale un po' particolare. Soprattutto mi sono informata e ho visto che le teglie in silicone sono molto delicate. Cioè, devono essere fatte bene, prodotte bene, per evitare che, diciamo, emanino odori strani che sono tossici. Quindi, sono andata a vedere e in realtà ho scoperto che, forse, però non sono riuscita molto bene a capire. Quindi, se qualcuno lo sa, fatemelo sapere. Le teglie, spesso quelle in silicone, dovrebbero avere il marchio CE. Ovviamente, niente di tutto quello che io ho comprato ha il marchio CE. Finché si tratta di una fascia per i capelli, va bene. Ma questa teglia in silicone, non so se l'andrò a utilizzare, dico la verità, proprio perché mi sembra materiale un po' scadente e non riporta il marchio che, forse, dovrebbe avere. Quindi, mi sa che questa l'andrò a buttare. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo fatto qui. Arriviamo agli ultimi acquisti. Se non sbaglio, sono due. Sì. Allora, abbiamo acquistato due tappetini per il bagno. Ecco perché nel video degli acquisti per la casa, seconda parte, vi dicevo che ci sarà uno spoiler relativo, appunto, ai tappetini. E eccoli qua. Se non avete visto il secondo video, ve lo lascio qui. E mi raccomando, se non avete visto anche il primo video, vi lascio anche quello. Andatelo a vedere. Comunque, abbiamo comprato due tappetini. Che sono questi qua. Sono, diciamo, per quando si esce dalla doccia. Sono antiscivolo, quindi buoni. E secondo me, non lo so perché, però ha impatto, è un materiale che non so, in lavatrice, quanti lavaggi mi farà. Però, vabbè, buono. Pagato 4 euro questo. E lo apro. 3,50 euro questo qua. Vedete dietro, hanno l'antiscivolo. Sono molto morbidi. Niente, il video è terminato. Spero vi sia piaciuto. Fatemelo sapere nei commenti. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!